E' stato ritrovato intorno alle 14.30 il cadavere del giovane Pasquale Lettieri, il 19enne di Rofrano, annegato da martedì nelle acque di Palinuro, a largo delle saline. Oggi la svolta, le ricerche erano affidate agli uomini della Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco e alla protezione civile. Impegnate a decine di uomini un elicottero, droni e una nave speciale della Guardia Costiera, sono arrivati subito i sommorzatori della Capitaneria di Porto per il recupero. Ad accorgersi del ragazzo un bagnino, il corpo sarebbe emerso sotto costa tra i 2 e i 300 metri dal luogo dell'annegamento.